Chi sta pagando questa serrata, che è fatta soltanto a fini economici personali e non come sostiene qualcuno nell'interesse dei cittadini, è contro i cittadini, non a favore dei cittadini. Io ho spostato risorse da un settore che i cittadini possono anche, e dopo dirò come, pagare, a settori che sono salvavita e che costringono altrimenti i cittadini a dover andare fuori Calabria. Non si va fuori Calabria per un'analisi di laboratorio, un'analisi del sangue. Prima questione. Seconda questione che è dirimente e vorrei che lo ascoltassero soprattutto coloro che imprudentemente hanno ascoltato le voci di queste persone. Chi sta pagando tutto questo onere sono i cittadini che hanno l'esenzione da ticket, perché i cittadini che non hanno l'esenzione da ticket continuano a fare quello che facevano prima, cioè vanno nei laboratori, pagano il ticket e non pagano la ricetta di 11 euro, perché così coloro che oggi fanno la serrata possono continuare a riscuotere dei soldi dal sistema sanitario regionale e non dai cittadini, che invece li pagano. Sono coloro che hanno esenzioni da ticket che oggi sono stati vessati da questa serrata, perché queste persone che sono o esenti da ticket per reddito, quindi sono poco abbienti, o sono persone esenti da ticket per malattia e quindi hanno dei problemi a causa della serrata, non avendo la copertura che avevano prima, oggi sono costretti a pagare. Io voglio sapere, voi da che parte state? Dalla parte dei cittadini che hanno esenzioni da ticket o dalla parte di questi signori che pretendono soldi da questi che sono le persone più sfortunate della Calabria? Questo è il punto. Dalla parte dei cittadini che hanno esenzione da questa serrata,